... Parte Giacomelli, il tiro e il gol, il gol che al trentunesimo sblocca il match di Giacomelli. Proprio su calcio di rigore, proprio Giacomelli va dal dischetto, la palla in rete con Giacomelli che pareggia! 1-1 allo scala... L'aggancio di arma, poi il pallone intercettato in mezzo al campo da Salvi, viene avanti bene il Vicenza, l'apertura sull'altra parte con Giacomelli, è tu per tu con Livieri e c'è avvantaggio! Bianco-Rosso con il gol di Giacomelli che va a prendersi l'abbraccio dei propri tifosi, uno sbagliore, probabilmente due canini e l'avvantaggio... Con Livieri che era dovuto uscire dai propri pali della propria porta, attenzione ancora il Vicenza con arma! Che mette il pallone in fondo al sacco, il raddoppio del Vicenza, ma è un pasticcio colossale, quello commesso dalla formazione gardesana con arma che va a prendere... Pallone spedito in avanti ora per Curcio, l'uno contro uno con Tantardini, attenzione alla destra, l'ex Arzachena, il cross dentro per arma che guadagna la posizione, poi mette il pallone in fondo al sacco, tutto regolare, dunque doppietta di Rashida Arma, gol di Rapina! Incertezze a quelle che sono le anomalie della concentrazione bianco-rossa per questa partita, che evidentemente sente molto di fronte al pubblico, palla interessante per Giacomelli, potrebbe scaldiare in mezzo, palla su Rashida Arma, e c'è la rete del Vicenza! Al ventottesimo, Rashida Arma sul secondo palo, si è fatto trovare... L'effetto in questo momento, palla sul dischetto, possibilità sotto misura, e c'è la deviazione con la rete del Vicenza! Al trentottesimo del primo tempo, la grande festa per questa rete, con un tocco prima di Arma... ...titolare nell'ultima partita vinta dal Vicenza, sono proprio laurenti all'interno dell'area di rigore, appena entrato, la palla che invece diventa buona, fuori aria, arriva il gol, in qualche modo il Vicenza pareggia a Pordenone, con Niccolò Bianchi, che col destro crea un flipper... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Brivido per i bianco-rossi all'ottavo quando Grandi si deve superare per neutralizzare una pericolosissima. 42esimo della ripresa sui sviluppi di un calcio d'angolo, la palla spiove in area, c'è un rimpallo, sul pallone si avventa il capitano Bizzotto che mette in rete per il 3-2 finale sulla Virtus Verona. Il mente esplode letteralmente di gioia, compreso Renzo Rosso con a fianco... Fischia l'arbitro, parte Giacomelli. Il tiro di Giacomelli! Ma che gol ha fatto! Stefano Giacomelli ha un gol bellissimo. 40 metri si va al lato corto per ancora un traversone, dentro la spizzata sembrava favorire salvi, poi Giacomelli che alza il pallone, si presenta davanti alla porta, Giacomelli in gol! Che gol! Stefano Giacomelli! È l'ottava meraviglia! Contro tronco, Mantovani preferisce andare direttamente dalle torri, c'è Arma che allunga per far proseguire Maestrello, poi ancora Arma raccoglie la respinta, Arma col destro! E arriva il gol dell'ex, ha segnato Rashid Arma, il pareggio del Vicenza, ha raccolto una respinta della difesa, la mezza giù col petto, collo! Sterza rientra, si accentra, tutto solo, gran colpo di testa, il palo e la rete! Alla fine il gol sul colpo di testa di Davide Bianchi, una torsione d'attaccante vero, eppure è un terzino! Che bella palla! Attacco bianco-rosso, palla recapitata in mezzo per Arma, poi alle spalle la grande conclusione in rete! Una cannonata di Solerio! A dar fastidio, Defendi si aggiunge, la giocatore in barriera, parte Giacomelli! Vicenza in vantaggio, la pennellata di Stefano Giacomelli, il gol dell'ex al diciottesimo, Vicenza 1, Ternana 0 Cross di tronco verso Arma che insegue il pallone, viene a rimorchio anche Zonta, eccolo servito, limite dell'aria, il tiro di Zonta! Che gol! Raddoppio del Vicenza, bellissima conclusione da parte di Loris Zonta che l'ha messa lì dove Iannarilli non poteva arrivare Ci prova con Rashid Arma, ottima la sponda, verso Alberto Tronco, arriva Zonta, il pallone di ritorno, rissima in area di rigore, Tronco! Lewandowski col miracolo, ancora Tronco! Ecco il gol del Vicenza! Al minuto 32 ci pensa Alberto Tronco, classe 1997 di Cittadella, segna così il suo primo gol in stagione Si porta in zona di Zarpellon! 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 La rete del parecchio! Rimessa Vicenza, Giacomelli, il cross dentro con Coser che perde il pallone e poi arriva l'avvantaggio della Vicenza! L'indecisione della retroguardia seriana e arriva il gol di Razziti che porta in avanti la formazione bianco-rossa Si toglie la maglia Andrea Razziti e dunque cambia il punteggio qui al...